Buongiorno, mi chiamo Martino Orlando, sono una restauratrice cinematografica, nonché docente di cinema e collaboro con l'Istituto Cinematografico dell'Apia La Lanterna Magica. Oggi, in occasione della giornata della memoria, il 27 gennaio, proponiamo, in quanto istituto cinematografico, la visione di un film, un film del 2020, da regia di Giulio Base, prodotto da Rai, Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma. È un film forse poco conosciuto, un film non del tutto nei circuiti dei film sulla Shoah, ma è diventato, dal 2021, uno dei film che vengono proposti proprio per ricordare e dare nuova speranza a questa pagina così triste dell'umanità. Il film racconta un po' la storia della Shoah, soprattutto il quartiere ebraico di Roma, il ghetto di Roma, ancora visibile e visitabile a Roma, ma un punto di riferimento per l'ebraismo italiano. Racconta la storia appunto della Shoah, una storia un po' insanabile, una cicatrice della storia dell'umanità. Ma lo fa in modo, questo film lo fa con un linguaggio un po' inedito, attraverso l'avventura, la ricerca della verità da parte di questo gruppo di ragazzi giovani. È ambientato nella nostra società, quindi nella società odierna, e piano piano ripercorre a ritroso la storia tramite il ricordo. Il film è la storia di questa ragazza, Sofia, che è la protagonista, è figlia di un pianista, quella di un gruppo anche di ragazzi, non solo ebrei, ma anche cristiani. Quindi viene messo in evidenza anche il dualismo che c'è tra cristiani ed ebrei, e come queste due religioni possano parlare insieme, possano condividere ideali, condividere delle tematiche. Il passato qui si intreccia un po' al presente, questo Sofia ritroverà, non voglio spoilerare nessuna, non voglio anticipare quel film, però in breve volevo appunto porre l'attenzione col fatto che questa ragazza, Sofia, di poco più di 18 anni, ritrova misteriosamente una lettera con una misteriosa foto di una bambina che porterà poi Sofia, diciamo, e questo è l'espediente, l'input iniziale, che ci porterà a ritroso verso la storia, a ricordo delle reggi razziali fasciste, a quello che successe a Roma nel cosiddetto sabato nero ebraico, dove vennero deportati decine e decine di migliaia di ebrei purtroppo nei campi di concentramento. Ripetiamo, è una pagina atroce dell'umanità, non solo della storia, diciamo, italiana, ma anche europea, diciamo, mondiale. È una storia di grande dolore, che si unisce un po' anche alla speranza data anche da questo intreccio e questo scambio di opinioni, di condivisioni di queste due religioni che diventano poi a un certo punto una sola cosa. Si cerca di svelare, diciamo, la trama del film, cerca di svelare, quella di svelare un poco il mistero di questa lettera, di questa foto, cercando chi fosse questa bambina nella foto. Sofì, insieme a questi suoi amici, affronterà quindi questo viaggio avventuroso nel passato attraverso la memoria difficile da dimenticare, ovviamente, dove vennero appunto quel giorno patidico del 1943, dove, chiamato il sabato nero, in cui vennero appunto, venne rastrellato completamente, il rastrellamento, si chiama, del quartiere ebraico di Roma, che ribadisco, ribadiamo, è un punto di riferimento non solo adesso, ma lo è sempre stato, nella storia per l'ebraismo in Italia. e questo viaggio che si intreccia con amicizie, nuove esperienze, amori, sicuramente trasformerà tutto questo in un'occasione di ritrovare una nuova speranza, perché non è mai abbastanza, non c'è, non è mai stato abbastanza il tempo, le parole che vengono utilizzate per parlare della Shoah, di questa tremenda vicenda, di questa storia atroce del nostro paese, che accoglie molto il nostro paese, ma tutto il mondo. Questi sono, come cinema in questo caso, riesce a, con il suo linguaggio, riesce a comunicare, riesce a trasmettere, a ripercorrere, a dare nuova speranza, a far ricordare, perché il ricordo è molto importante, senza il ricordo non c'è futuro. E proprio Giulio Base, che è appunto regista di questo film, ha sottolineato il fatto che il film vuole restituire sicuramente la drammaticità di questa pagina, di questa singola vicenda, storia, della protagonista, di Sofia e della sua famiglia, intrecciando sicuramente e accompagnando un po' lo spettatore in un viaggio introspettivo verso la speranza, la coscienza di questo gruppo di giovani, sia cristiani che ebrei, che dialogano fra loro, che diventano proprio una cosa sola. e è un momento di riflessione, di approfondimento e di studio, soprattutto nel frequentare la diversità. E anche, soprattutto, di affrontare quella che purtroppo ormai nella nostra società è l'indifferenza sociale, che può portare, come già è stato nel passato, all'odio, all'odio reciproco. E sappiamo che nella fase storica che stiamo vivendo purtroppo è una tematica presente sia nella scuola, sia al di fuori. e ci dovrebbero essere più occasioni, come la visione di un film, come la lettura di una lettera anche, per cercare di avvicinare i ragazzi, non solo alla vicenda della Shoah, e quindi a una storia che ormai, a livello, diciamo, tempistico, è molto lontana dalla nostra società, è quasi impensabile, leggendo le storie, ripercorrendo la storia di molti giovani che sono riusciti anche a sopravvivere tramite le loro storie, ai campi di concentramento, a quel periodo particolare della nostra storia italiana, e tramite loro possiamo riuscire a ricostruire la storia e apporre dei punti fondamentali di speranza, di riflessione soprattutto, sulla diversità, su quello che anche sta accadendo nei tempi di oggi. Quindi la scelta di questo film non è casuale, perché è un film che comunica, è un film che dialoga con i giovani, un film appunto che è ambientato nella nostra società e che poi ripercorre al ritrosso con dei flashback e con un viaggio nel passato, quindi passato e presente dialogano come dialogo alla diversità fra sia dai protagonisti che alle varie storie. Mi auguro che il film sia di vostro gradimento che ponga a ognuno di voi la riflessione necessaria per affrontare una tematica così importante e che dia soprattutto alle nuove generazioni la speranza, la speranza nel futuro che molto spesso la nostra società dimentica o cerca di alienare un po'. Grazie dell'attenzione e buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.